La guerra in estremo oriente. La distruzione del ponte sul fiume giallo presso Zinan, compiuta dai cinesi nella vana speranza di ritardare l'invasione dello Shantung, non è valsa a fermare le truppe del Mikado, che su un ponte di barche sollecitamente improvvisato, attraversano il fiume e lanciano reparti di cavalleria alla conquista della ricchissima provincia dell'industria serica cinese. All'ombra di Canton, la colonia britannica di Hong Kong prepara intanto febbrilmente le sue difese. Volontari e truppe sopraggiunte dall'India, reparti tiratori scelti rajabuttani e artiglieri del Punjab svolgono manovre sulle colline che costituiscono il baluardo naturale di quest'isola fortificata. «Chi non si mu中. La comunità italiana è la sua vita, la mia vita è stata fatta a gestire Grazie a tutti.